Il Campobasso lavora in maniera incessante su vari fronti, ormai il patron Mario Gesuè gioca a carte scoperte. In un articolo di stampa questi ha affermato come il Campobasso stia lavorando in ottica Lega Pro e che i lavori presso lo stadio di Selvapiana potrebbero vedere una conclusione entro i primi di agosto. Non è mancata una vena polemica da parte di Gesuè circa l'argomento stadio espresso in generale. Altri, ha affermato il patron Rosso-Blu, hanno la possibilità di giocare in deroga circa l'omologazione dell'impianto di gioco. Il riferimento sottinteso va al Matelica che da promosso in Lega Pro tramite cristallizzazione della classifica potrebbe giocare su un altro campo per disputare il professionismo quindi con una deroga mentre il Campobasso deve adoperarsi unitamente alla componente del comune per adeguare la struttura al campionato superiore. La struttura comunale è stata ringraziata da Gesuè per lo sforzo economico e non solo compiuto negli ultimi giorni. Il patron che risiede a Londra ma segue con attenzione le vicende a distanza e per il tramite del suo team di dirigenti fidati ha ribadito come esista una trattativa con Cogliati ed Alessandro e come Zammarchi sia tornato a Cesena. Per il resto c'è una volontà di tenere tutti gli altri. Gesuè non si nasconde dietro un dito, anzi al patron rosso-blu non fa proprio difetto né la chiarezza né tantomeno l'ambizione. Secondo indiscrezioni il ritiro partirà ad agosto inoltrato e si svolgerà nelle vicinanze. Cudini ed i suoi giocatori dovrebbero rimanere nei paraggi al massimo. Gli spostamenti potrebbero avvenire nel vicino Abruzzo dove tra l'altro il Campobasso già effettuò un amichevole la scorsa estate contro la Juve Stabia. La Lega Pro è nel suo vivo perché da domani si parte con la fase nazionale dei play-off. Il Campobasso aspira legittimamente ad un ritorno nel professionismo che avverrebbe dieci anni dopo la partecipazione alla seconda divisione e ben trent'anni dopo la militanza nella terza serie del calcio in quanto ad oggi la Lega Pro è il terzo gradino del calcio italiano. Sarebbe un motivo di grossa spinta per il capoluogo di Regione e forse per tutto il Molise. Le possibilità esistono e la società Rosso Blu farà di tutto perché diventino realtà. L'ultimo decennio caratterizzato da soli tre anni di professionismo ha visto troppe delusioni per i tifossi Rosso Blu ma soprattutto ha visto a Campobasso personaggi di dubbia, caratura, dirigenziale, ergersi a protagonisti senza esserlo minimamente del calcio campobassano. Ad Agnone è stata inaugurata la sottoscrizione popolare per la nuova stagione. Ancora una volta la città è chiamata a riunirsi per dare vita a quello che è un progetto non solo sportivo ma anche sociale. La dirigenza da oggi chiama a raccolta tutta la cittadinanza agnonese per contribuire a raccogliere gran parte della somma utile per l'iscrizione in quarta serie. In Alto Molise è diventato ormai un fatto usuale da qualche anno a questa parte. La cittadinanza risponde sempre presente e sarà così anche quest'anno. Tutto questo mentre Marco Colaizzo, presidente di Missionario, conferma il proprio impegno da main sponsor dell'Olimpia. Da oggi la macchina organizzativa dell'Agnone si è rimessa ufficialmente in moto.